Musica Musica Nel museo di Orsa Michele sono conservati i capolavori della scultura fiorentina del Rinascimento che un tempo situati all'esterno e oggi sostituiti da copie decoravano i tabernacoli dell'edificio con le immagini dei santi patroni delle arti fiorentine. Tra questi risplende il San Giovanni Battista, statua in bronzo di Lorenzo Ghiberti, celebre orafo e scultore fiorentino. Il Battista è il santo patrono di Firenze, ma lo era anche dell'arte di Calimala che commissionò la statua per il proprio tabernacolo nel 1412. L'arte di Calimala rappresentava i mercanti di prodotti tessili di importazione, coloro che acquistavano all'estero i panni di lana grezza, li lavoravano a Firenze e poi li riesportavano come prodotti finiti di alto preso. Se può dirsi incerta e controversa l'origine del nome della corporazione, non vi è alcun dubbio in merito al ruolo di potere che l'arte esercitò a Firenze nel 300 e nel 400. Non a caso il loro tabernacolo godeva di una posizione privilegiata a Orsa Michele su Via dei Calzaioli e numerosi luoghi di culto cittadini figuravano sotto il loro patronato, come il Battistero di San Giovanni. Fu dunque naturale che in occasione dei lavori per Orsa Michele i consoli di Calimala si rivolgessero a Ghiberti, che nel 1401 aveva vinto il celebre concorso per la realizzazione della seconda porta bronzia del Battistero. Quello tra Ghiberti e l'arte di Calimala fu d'altronde un sodalizio di eccezionale durata. 50 anni durante i quali l'artista fu impegnato nella fusione della porta nord e est e nella non meno ardita impresa per la statua del San Giovanni. Fu una novità assoluta per Firenze. La fusione a cera persa di una statua più grande del vero denotava la volontà di cimentarsi con gli antichi, recuperando una tecnica, quella della grande bronzistica greco-romana, andata del tutto perduta nel Medioevo. E solo Ghiberti, l'orafo e il bronzista più esperto in città, poteva essere in grado di realizzare una statua alta più di due metri e mezzo, il primo grande bronzo del Rinascimento. La statua fu probabilmente modellata dal 1412 al 14, poi fusa e successivamente sottoposta a un lungo processo di rinettatura e cesellatura, prima di essere collocata nella nicchia nel 1416. Nonostante la perizia tecnica del Ghiberti, l'artista era consapevole dei rischi, quindi sappiamo che anticipò personalmente le spese per i costi della fusione ed evitò di procedere con un unico getto, ma come dimostrato in occasione del restauro del 1994, fuse separatamente alcune parti, come la testa, le mani, e poi le assemblò al corpo. L'abili tracce documentano ancora oggi l'originale doratura foglia dei calzari e dell'iscrizione che corre lungo l'orlo del mantello, dove Ghiberti scrive le lettere componenti la propria firma. L'artista tiene a mente il confronto con la statuaria classica, come rivela l'espediente tecnico della foglia d'argento applicata agli occhi per illuminare lo sguardio, ma anche i modi eleganti del gotico internazionale. In quest'ottica si comprende l'interpretazione straordinariamente raffinata del Battista, rappresentato non come il selvatico eremita vissuto nel deserto, ma quasi fosse un giovane aristocratico di una corte europea. Le socche della barba e dei capelli sono ben accomodate, il corpo ondeggia sinuosamente avvolto dalle pieghe del manto e il pellicciotto di cammello, ricordo della sua vita eremitica, si trasforma in un elegante capo d'abbigliamento grazie al fiocchetto che lo ingentilisce. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.